Parte dal visto concesso a un italiano, Frank Madafferi, l'inchiesta di ABC che può far tremare il mondo politico australiano. Il partito liberale e quello laburista hanno ricevuto denaro dall'andrangheta. L'inchiesta, firmata dai giornalisti Nick McKenzie, Richard Baker e Michael Bachelard, parte dall'arresto di Madafferi. Nel 2007 l'uomo fu condannato per omicidio e per aver organizzato la più grande importazione di ecstasy mai intercettata al mondo. I reporter hanno seguito a ritroso le tracce di Madafferi, scoprendo che il visto concessogli nel 2005 per ragioni umanitarie era in realtà il frutto di un'imponente attività di finanziamento ai partiti e di lobbismo. Il sistema politico australiano infatti fa leva per il proprio finanziamento sui donatori, soggetti che finanziano le campagne elettorali dei candidati, arrivando poi ad ottenere una contropartita politica. I lobbisti dell'andrangheta erano arrivati addirittura a farsi fotografare con John Howard, all'epoca dei fatti primo ministro della Federazione Australiana. L'indagine dei reporter della TV Oceanica verte principalmente sulla penetrazione degli uomini dell'andrangheta nel sistema politico australiano, sulla loro influenza ottenuta grazie a generose donazioni, una delle quali ha praticamente acquistato il visto di Madafferi, il presunto uomo dell'andrangheta dedito principalmente al traffico internazionale di stupefacenti.